Salve ragazzi e bentornati con la carriera allenatore Allora quest'oggi tornano le tre partite perché affronteremo prima il Mainz, l'Union Berlino quindi finiremo il mese di settembre e arriveremo al 1 ottobre dove affronteremo l'Aidenim nostra vecchia conoscenza dallo scorso campionato Ma come al solito raga prima di iniziare io vi invito a lasciare un mi piace, riscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione Detto ciò raga possiamo andare subito in campo, partita la prima di oggi contro i Mainz formazione già pronta, in realtà no perché dovrei rimettere Morato eccolo qui, ok, Magnoman, Weijand, 78 Taylor è cresciuto se non sbaglio, anche Adelie è diventato un 78 bene ragazzi, Mukogo secondo me si può schierare, si può provare a piazzare già in campo perché poi se non giocano ritrova mai la forma ideale poi ragazzi per il resto della panchina, Baturina, Boss Dogan teoricamente la formazione è titolare anche, diciamo, nelle panchine nella panchina e questa qui unica cosa, bisognava vendere Baker che non è stato venduto e Data Shop che sta sempre qua quindi raga possiamo scendere in campo, Mainz che sicuramente è un'ottima squadra noi, diciamo, maggiormente quest'anno partiremo sempre sfavoriti però allo stesso tempo possiamo giocarcela con tutti no, c'è subito al Mainz che sblocca la partita qui cross in mezzo, colpo di testa dove noi non ci siamo arrivati e Coita ha potuto spingerla dentro no, qui perché ha fatto sto movimento Morato perché il giocatore si sposta indietro cioè, è ovvio che devi andare verso la palla cioè io faccio il movimento per andare verso la palla vabbè, queste cose FIFA un giorno me le dovrà spiegare proviamo ad accenderci a Delito tocco per Mukoko, l'appoggio per Salazar vediamo un po', Salazar tocco buono per Sucic che va dentro da Mukoko che non può sbagliare torna subito al gol alla prima partita grande Mukoko, bentornato e occhio Mukoko qui che palla per Bomb che si è inserito alla grande occhio Bomb, Bomb tocco dietro, no la palla è rimasta comunque lì che peccato che occasione e occhio ancora il Mainz qui con Mata Shans clamorosa e ok ragazzi, abbiamo nel primo tempo 2-1 Mainz all'intervallo ce la stiamo giocando stiamo provando a recuperarla però non è per nulla semplice anzi ragazzi, occhio qui grandissima azione Uweijan che si è inserito alla grande Uweijan va direttamente in porta la palla rimane lì e Mukoko arriva la doppietta di Mukoko ma che cosa ha fatto Uweijan ragazzi avere un giocatore come Uweijan è veramente un qualcosa in più cioè giochi in 12 con lui in campo 2-2 doppietta di Mukoko sì che è tornato certo che è tornato raga ma occhio ancora al Mainz qui morato salvataggio miracoloso occhio che possiamo ripartire bella palla per Mukoko che prova a passare in mezzo a tutti ci riesce Mukoko vedi Adelì da quell'altra parte che si è sbarcato nel frattempo Adelì 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 non ci credo era il contropiede della vita che peccato e attenzione ancora Adelì Mukoko qui ancora il numero di Mukoko pazzesco Mukoko 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 no all'ultimo non riesce a calciare che peccato ragazzi possiamo andare qui a ottenere il tocco di Mukoko per Salazar che si è inserito alla grande Salazar occhio a recupero qui dal difensore che è una bestia occhio Salazar steso calcio di rigore grandissimo Salazar chi è questo difensore? è velocissimo comunque ragazzi il rigore c'è Adelì sul pallone allora 69 effettivamente il rigore è più alto proviamo con lui vediamo un po' Adelì col suo sinistro pure col cane che abbaia per rendere tutto più epico infatti arriva la parata ragazzi Adelì palla per Sucic no no che è successo non era per lui la palla comunque Sucic no qui FIFA non mi ha fatto capire nulla era completamente un'altra parte il passaggio per caso 2-2 termine qui la partita però meritavamo di più possiamo dirlo e ok raga adesso tocca subito all'Union Berlino siamo in casa proviamo a tornare alla vittoria chiaramente esattamente con la stessa squadra che ha pareggiato a Mainz perché è vero non abbiamo vinto però stanno giocando bene Mukoko è tornato alla grande quindi non potevo fare altro che confermare tutti e occhio subito Mukoko si infila Mukoko è partito è velocissimo ragazzi è tornato è tornato Yusufa il dastro di Mukoko paracrull e occhio ancora bellissima la palla per Vagnoman che va subito dentro la Salazar brutta palla però Salazar può toccarla dietro però di lì la palla rimane lì a due volte non riesce a calciare Vagnoman prova a rimettere subito dentro e guadagna nulla perché è un cretino occhio Taylor possiamo andare c'è il campo Mukoko vedi Salazar che può andare Salazar di prima intenzione Krull riesce a metterla in corner ma molto fortunato perché aveva sbagliato praticamente e occhio al corner di test c'è Morato che la mette a terra poi l'appoggia Taylor che spacca tutto ma Krull la tiene e termina anche il primo tempo stiamo finendo cioè abbiamo concluso bene il primo tempo increscendo però ancora non riusciamo a sbloccarla e occhio no ragazzi prima azione dell'Union Berlino dopo un dominio assoluto la sbloccano eh ragazzi la Bundes è così occhio Adelì proviamo a rispondere forza ragazzi che si può segnare oggi su la docca molto bene per Salazar va dentro benissimo da Mukoko poi ancora Krull che salva la situazione raga triplo cambio per noi dentro Baturina per Taylor in campo Cullinov a posto di Adelì e anche Bosdogan per Sucic e occhio qui si è staccato benissimo Cullinov gran palla di Bosdogan il destro di Cullinov ma vai col sinistro dai che peccato e poi Cullinov c'ha pure i 5 di pete debole cioè Krull dove esce ragazzi Krull Krull è uscito a mezzo campo praticamente niente raga partita che finisce qui concludi un attacco all'Union Berlino questa qui proprio rubata perché non si poteva segnare Krull che faceva i miracoli usciva a mezzo a campo un altro po' quindi ragazzi oggi non si poteva vincere l'unica azione buona fatta dall'Union Berlino arrivato il gol quindi era una di quelle partite inizio stagione funziona sempre così lo sappiamo anche le statistiche abbastanza emblematiche media gol previsti 3,6 odio odio questa statistica serve solamente a farti nervosire ok raga adesso sfida all'Adenim purtroppo è arrivata la prima sconfitta però vabbè dopo 6 giornate 9 punti non è male siamo sesti troppo troppo presto per fare dei calcoli mi piacerebbe restare tutto sommato lì non voglio arrivare già in Champions però tipo in Conference in Europa League ci proverei non c'è l'obbligo di riuscirci però ci proverei il nostro obiettivo secondo la dirigenza è arrivare a metà classifica però noi proveremo a spingerci leggermente più in là comunque andiamo in campo con l'Adenim ho fatto qualche cambio visto diciamo la sconfitta qualche pareggio di troppo proviamo a cambiare un po' le carte in tavola sempre Andano vicce fra i pali poi abbiamo Vejan Morato Sané non ti av poi Vagnoman sulla destra centrocampo Baum Johannesson Salazar Bosdogan e in attacco Chulinov Mukugu c'è subito l'Adenim il destro e arriva subito il vantaggio di sessa addirittura beh ragazzi se devo perdere per un gol di sessa impazzisco possiamo andare Mukoko corre Mukoko è passato forza Mukoko dai Mukoko il destro di Mukoko che trova il gol del pareggio 1-1 terzo gol in tre partite da quando è tornato ragazzi veramente eccezionale se prende la forma giusta il ritmo giusto questo qua arriva a 30 gol quest'anno ma anche di più oggi ho qui errore dell'Adenim brutto fallo su Mukoko il mom è tornato se me lo rompi un'altra volta io ti rompo un'altra cosa cacciolo fuori cacciolo fuori signor abitro forza questo cartellino rosso guarda la loro maglia e dagli il cartellino rosso non me l'aspettavo ma veramente l'espulso raga Mukoko prova a far correre Chulinov ci riesce Chulinov Chulinov stavolta va col sinistro e si vedono le differenze giustamente 2-1 la ribaltiamo contro l'Adenim che è assolutamente una squadra da battere visto che l'anno scorso faceva il nostro stesso campionato quindi dobbiamo dimostrarci superiori raga ma occhio all'Adenim la palla rimane lì palo clamoroso Andanovic che si salva chance incredibile ma riusciamo a mantenere il vantaggio qui per miracolo veramente ok raga finita il primo tempo 2-1 all'intervallo nonostante l'uomo in più non mi sento affatto sicuro questa partita va chiusa al più presto possibile riesce ad arrivare in aria Mukoko non riesce a calciare ma la palla rimane lì e Bosdokan l'appoggia dentro 3-1 ottimo inizio di ripresa solitamente appena inizia il secondo tempo subiamo gol stavolta siamo stati noi a farlo bene così gol di Bosdokan ma ancora un'azione di Mukoko che qui prova qualche finta poi riesce a calciare per tiro viene ribattuta e Bosdokan l'appoggia dentro e occhio Mukoko la lascia lì per Salazar allarga ancora di qua bellissima azione ancora Bosdokan che segna la doppietta personale 4-1 bellissima azione adesso sì che mi sento più tranquillo triplo cambio per noi fuori Bosdokan dopo una gran partita forse anche migliori in campo dentro Sujic poi cambio due attaccanti Adli al posto di Mukoko e Pepi al posto di Julinov magari la partita giusta per Pepi per sbloccarsi vediamo subito fuck no ma dentro proprio da Pepi che non calcia spiegatemi perché poi ci riprova e arriva la parata azione stranissima confusionare occhio bom può avanzare bom vedi dietro proprio Pepi che qui calcia benissimo stavolta bisogna dirlo e arriva la gran parata del portiere calcio d'angolo Salazar di Testa Sané che svetta benissimo palla alta possiamo ancora andare Adli in velocità è passato la può piazzare Adli incrocio dei pali incredibile di testa Pepi non riesce a centrare la porta raga Pepi qui bellissima palla per Adli grandissimo corridoio Adli 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 può calciare lo fa malissimo comunque effettivamente Adli dopo la prima gran partita comunque le prime due si è un attimo fermato non è stato così esplosivo era normale era quasi ovvio però sicuramente è da approfondire da far giocare il più spesso possibile perché ha un potenziale immenso comunque 4-1 termina qui la partita finalmente torniamo alla vittoria ok raga concludiamo la puntata al quarto posto in classifica che va sicuramente bene addirittura a pari punti con Lipsia lo Schalke sta bene in mezzo a queste squadre d'altronde negli anni c'è sempre stata quindi sicuramente non è una cosa così incredibile comunque nella prossima puntata altre tre partite contro Norimberga che è un'altra che è salita dalla Bundes 2 Lofenam e la prima partita di Coppa contro il Fjord e poi oggi anche ci avviciniamo alla nostra prima sfida al Bayern Monaco che potrebbe assolutamente non essere l'ultima perché se andremo avanti in un certo modo non solo in campionato ma soprattutto in Champions è probabile che affronteremo spesso il Bayern comunque come detto io per oggi mi fermo qua vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto di iscrivervi al canale e di seguirmi sulla pagina Instagram noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti